Maria Teresa d'Asburgo, una sovrana illuminata. Maria Teresa d'Asburgo, 1717-1780, fu una delle più importanti figure della storia europea. Fu la prima donna a regnare sull'impero austriaco e fu una sovrana illuminata che portò a grandi cambiamenti nel suo paese. Maria Teresa nacque a Vienna, in Austria, il 13 maggio 1717. Era la secondogenita dell'imperatore Carlo VI e della principessa Elisabetta Cristina di Brunswick-Holfenbüttel. Suo padre, che non aveva figli maschi, promulgò la prammatica assanzione nel 1713, che stabiliva che Maria Teresa sarebbe stata erede al trono austriaco. Quando Carlo VI morì nel 1740, Maria Teresa salì al trono. Tuttavia, la sua successione fu contestata da diversi stati europei. tra cui la Prussia, la Francia e la Baviera. La guerra di successione austriaca, 1740-1748, fu una serie di conflitti che si conclusero con la sconfitta degli avversari di Maria Teresa e la conferma della sua successione. Durante il suo regno, Maria Teresa condusse una serie di riforme che modernizzarono l'Austria. Introdusse un sistema di istruzione pubblica, creò un esercito permanente e promosse l'economia. Fu anche una sostenitrice del cattolicesimo e cercò di rafforzare la posizione della Chiesa cattolica in Austria. Maria Teresa fu una sovrana forte e determinata che guidò l'Austria attraverso un periodo di grandi cambiamenti. Le sue riforme contribuirono a rendere l'Austria una potenza europea moderna. Le riforme di Maria Teresa Maria Teresa fu una sovrana illuminata che credeva nel potere della ragione per migliorare la società. Le sue riforme furono volte a modernizzare l'Austria e a renderla un paese più efficiente e prospero. Una delle riforme più importanti di Maria Teresa fu la riforma dell'istruzione. Introdusse un sistema di istruzione pubblica che forniva un'istruzione di base a tutti i bambini. Questa riforma contribuì ad aumentare il livello di alfabetizzazione in Austria e a migliorare le possibilità di successo per i giovani. Maria Teresa si interessò anche all'economia. Creò un esercito permanente che diede all'Austria una maggiore sicurezza militare. Inoltre, promosse l'industria e il commercio, che contribuirono a migliorare l'economia austriaca. Maria Teresa fu anche una sostenitrice del cattolicesimo. Cercò di rafforzare la posizione della chiesa cattolica in Austria e di contrastare la diffusione del protestantesimo. Il lascito di Maria Teresa Maria Teresa è considerata una delle più grandi sovrane della storia austriaca. Le sue riforme contribuirono a modernizzare l'Austria e a renderla una potenza europea moderna. Maria Teresa fu anche una figura importante nella storia europea. La sua lotta per la successione al trono austriaco fu una delle cause della guerra di successione austriaca, che fu una delle guerre più importanti del diciottesimo secolo. Il lascito di Maria Teresa è ancora evidente oggi. L'Austria è un paese moderno e prospero, e le sue riforme hanno contribuito a plasmare il paese in quello che è oggi. Conclusione Maria Teresa d'Asburgo fu una figura complessa e controversa. Fu una sovrana forte e determinata che guidò l'Austria attraverso un periodo di grandi cambiamenti. Le sue riforme contribuirono a modernizzare l'Austria e a renderla una potenza europea moderna. Tuttavia, fu anche una sostenitrice del cattolicesimo e cercò di rafforzare la posizione della chiesa cattolica in Austria. Il lascito di Maria Teresa è ancora evidente oggi. L'Austria è un paese moderno e prospero, e le sue riforme hanno contribuito a plasmare il paese in quello che è oggi.